Tutto pronto a Senigallia per accogliere la ventunesima edizione di Pane Nostrum, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell'arte bianca presentato in Regione. Un evento di Confcommercio Marche Centrali e Cia Provincia di Ancona. Dall'11 al 13 ottobre il Foro Annonario e le aree attigue diventeranno teatro di masterclass e convegni, show cooking e dimostrazioni dedicate al mondo della panificazione, della pasticceria, della pizzeria e della ristorazione con protagonisti di rilievo del settore. C'è tanto interesse e questo interesse per noi è un grande orgoglio perché unisce anche il settore dell'agricoltura dove la nostra regione, soprattutto dal punto di vista anche dei cereali, dà un contributo importante alle politiche nazionali e la trasformazione di questo prodotto fatta in maniera assolutamente importante e con grande professionalità porta a un raggiungimento di un'eccellenza, di una qualità che non solo è forte nella nostra regione ma addirittura diventa un'attrazione. Quest'anno sicuramente si rinsalda il rapporto con il territorio esaltando tutti quei valori che il concetto del pane trattiene dentro di sé. Avremo a Senigallia una tre giorni splendida, profonda, tutta legata al mondo del lievitato e della panificazione e quindi tutto ciò che è eccellenza e anche imprenditorialità legata al mondo della lievitazione e del pane sarà presente a Senigallia. Le aspettative con lo sviluppo del food sono cambiate ma siamo avvicinati non solo alla panificazione ma alla pasticceria, alla ristorazione ormai è un mondo che viaggia insieme. Intanto è vero che ormai il pane nostro ha all'interno proprio il salone dei lievitati perché proprio sta diventando il punto di riferimento nazionale per tutti i lievitati. L'anno scorso abbiamo avuto 5.000 presenze da fuori regione da parte dei professionisti e diventerà sempre più professionale e legata ai professionisti che vogliono aggiornarsi con la loro attività del settore food perché ormai, ripeto, è globalmente coperto. Noi crediamo che gli agricoltori hanno un ruolo essenziale per cui siamo a fianco dei panificatori e c'era proprio per ribadire il ruolo di coloro che producono la materia prima che però deve essere in qualche modo giustamente ritribuita. Il problema del grano, soprattutto in questa annata, è il prezzo per cui noi come organizzazione abbiamo promosso anche il granaio d'Italia che poi è stato approvato dal decreto legge agricoltura per tutelare il grano italiano, il grano del Marino d'Italia, il grano delle Marche. Il palnostrum è un format che tradizionalmente viene collegato sicuramente alla nostra città, negli ultimi due anni ha assunto una veste nuova e per noi rappresenta non solo un momento promozionale ma soprattutto un momento di grande riflessione da un punto di vista enogastronomico che è un po' una caratteristica della città di Senigallia.